Marietto? Marietto? Esercitando? Subito! Fai riscaldare un po' questa volta, mamma mia! Ha freddo la pena, fai stare male questa telecamera quindi fai fare anche un riscaldamento Ascettate! E' proprio a te girato di bucchia e notte la tele dell'estate tutta la vita è fredda E' la luce bella che tiene tu, vai! Ma quando è che mi fai trovare due luci come si deve qua? Questa qua non è buona, la vista è dalla macelleria, ma è buona Mi hai venuto un'idea, faccio... Ma scusa, ma sei solo tu, non hai capito Faccio un diagnosi Tu la voce, ha già messo Mi chiamava a te lei, come hai fatto niente a fare cosa? Dove mi inquadro solo io, e tu... E poi io compagno all'improvviso Se io non ci fossi più, ti arriva la telefonata, Ricky non c'è più E' solo perchè non ci sono più, non ci sono più secondo te? Nooo, non è quelle figure E basta, basta morire per non esserci? No, quello è vero E' quello, quindi Ricky nella tua vita cosa sarà da morto secondo te? E' morire prima, insomma, non mi faccio la tua dica Come già morire Ma qualcuno, Marietto Poi chiam e ti ricordo come te la... Capito, ti spiega tutto quello Vengo sulla tua lapide e ti ricordo il cavo, sai avevi ragione Non ti preoccupare, ti prometto che lo faccio Quando io ti vengo a trovare a Milano e mi dici Mario Lo sai ti faccio leggere un commento E leggo che qualcuno ha sorriso Proprio Io sono contento Ma veramente sono contento, proprio sono sincero Sono contento, dico, guarda che ho fatto il sorriso Pure una persona E che io dico, ognuno di noi Quando si ci sveglia al mattino Scende e riesce a far sorriso Una persona Wow, il mondo sarebbe bellissimo Eh, questo appunto, chiudi e spegni il telefono Fai il dialogo che lasci il telefono Ci ricevi 50.000 telefono per giorno Ma vorrei pure chiedere, appunto Vediamo Ma esce il nome? Sì, vediamo Michi, ciao Ciao Frank, dimmi Di disturbo? No, 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 non disturbi Anzi, sei un elemento In più per il film Partecipa Eh, a parte Stiamo facendo un film Io e Marietto Dimmi, vuoi farne parte? Ma, vocalmente? No, se sei qua in zona Vieni qua Facciamo quattro chiacchiere con Marietto Ma, sono... Stavo leggendo Il letto Piano con i capelli Tutti Sui sport Ma se vuoi Vengo Che cosa vuoi dire? Allora, siete contenti che vi doniamo Un elemento in più questa volta? Ci sarà Ricchi Marietto e Frank Eh, magari ci dà uno spunto di qualche argomento interessante Eh, perché io veramente Perché noi abbiamo esaurito tutto La morte La morte con Marietto Non ce la faccio più a parlare della morte I soldi Sesso abbiamo già parlato Ma dici tu che leggi 150 libri al mese, no? Dico io Uno come te Tu leggi 150 libri al mese Eh Non riesci a dare là per un argomento Ma sai che ti dico? Ma non leggere più che è meglio Guerra e pace Napolione Io solo qui Guarda là Tiene un libro per tutte le parti Uno quando entra qui a casa tu Sento proprio l'autore dei libri Chi è? Pronto Frank? Frank Adesso arriva Frank Praticamente ci sarà Marietto Ci sarà Marietto Marietto e Frank Non succederà nulla Non succederà un cazzo Ma Per il 13 Per il 13 Marietto 13 Ci voleva Un altro essere umano Altra carne vivente Ecco No, certo Così Allora Cioè, lui è Frank E adesso Questo dialogo con Marietto Si trasformerà in un dialogo Tra Marietto e Frank Eh, questo è bello Non si capisce Cosa posso offrirti? Nulla Allora Come notate Tutte le persone Che vengono a Chisciotte Sono Hanno un fondo di disperazione Potete guardare gli occhi di Frank Il suo sguardo Ha un fondo di disperazione Ma non sono delle persone Che si abbattono però Vivono la disperazione Come un nutrimento spirituale Vedete? Vedete gli occhi di Frank? Guarda in L'obiettivo Vedete? Aspetta Dio mio ragazzi Eh, ti dobbiamo fare la parola Vengono a essere al lavoro? No, io mi sono svegliato Sono passato dal mio divano letto Fatiscente però abbastanza ancora comodo Vabbè, un divano letto Al letto della bambina più piccola Eh? A leggere Pure due leggi Come lui Ma no, è che io Io spero Il 5 di giugno Il 5 di giugno Faccio 25 anni di matrimonio Eh, devi passeggiare Ora, in qualche maniera ci sono arrivato, no? E pensavo di esserci arrivato Dopo tutti i casini che ho avuto in Toscana della mia famiglia In una maniera quasi armoniosa E invece non è così Non è così Però Freddi Mi riscopro Ah, litigare in continuazione con questa donna Non avere un punto di... E questo mi... Però Freddi, ti posso dire una cosa? Questo mi sta togliendo tutte le forze Non... Però sono pure 25 anni, eh? Qua la gente si sposa Dopo quando esce dalla chiesa C'hanno litigato Lo so C'è un bel successo che hai avuto Ecco, pensi in positivo Ma lo so Io so da 25 anni E poi bisogna vedere pure le litigate Se fra tre giorni devo scontrarmi un'altra volta No, non devi andare allo sconto Però che ci sia una litigata ogni tanto Quale ci stanno Secondo me è proprio quello che mantiene vivi il rapporto No, no Tu pensi quando tu torna a casa e ognuno sta per i fatti suoi, no? Cioè... Freddi E' meglio che litigi, senta bene Almeno la cosa è viva Ah Tu torna a casa La senti buonasera Buonasera Come due strani Cioè... Uno è stato in là e dice Ah, non ho litigato Per le spalle, ti amo Quando fai così a me non mi piace Veramente, ricco Marietta, chiedo Non so nessuno Ti giuro, guardi, io sono sotto zero Io sono l'ultima notata del carro L'ultima L'ultima Proprio l'ultima La più oliata Neanche delle scorte Che è lato alla Il ruotino No, proprio la ruota Però ha una psicologia intuitiva Una diagnosi intuitiva, diciamo così Delle persone Sente l'energia Ma come siete conosciuti L'energia Che energia ti sta mandando Qual è la diagnosi che fai Anche se il termine... Cosa stai avvertendo? No, sto avvertendo che lui soffre molto di questa situazione Perché se no, capi Veniva qua con un altro spirito Però ti voglio dire a te Fred Visto che sei qui affendo a me Incominci a pensare Sono 25 anni Ma lo so Poi Aspetta E lo so Aspetta Poi C'hai dei figli No? Tu quando ne hai? Due bambine? 25 e 8 8 anni Che c'è l'età di mia figlia La seconda era Ecco Questa pure è una bellissima cosa Ovviamente lo so Che il rapporto quello di 25 è diverso da quello che c'è quello di 8 anni Però comunque aveva integrato qualcosa di bello, no? Cioè non è che stai vinti cercando così di pezzuto e mi aveva appiccicato solo Quello no Allora tu cominci a trattare le cose positive che ti è capitato in questi 25 anni E le cose negative, qualcosa cerca di scattarle Perché secondo me già hai fatto del messaggio Sono cose buone Non c'è bisogno di litigare perché ti arriva un messaggio Magari perché hai problemi sul lavoro Sono tante cose Però È difficile oggi Stai fare la vita di coppia Guardate Io sento che i miei amici sono scusati da un anno Sei mesi Ma su due o tre anni Tutti che si lasciano Perché proprio noi Forse la nostra generazione La tua La sua La mia Non siamo più in grado Di Sopportare Sopportare l'altro O ascoltare l'altro Secondo me se ci proviamo Vado a scottare l'altro Senza andare allo scontro Cercando di comunicare in un certo modo Sarebbe diverso Non penso che questa donna ti rompa solo i coglioni Frenco E cominci a mettere cose positive sul piatto Ma perché non ci vediamo mai Bello molto In tre giornata Capito? Eh vabbè però tu comunque Questo è così E arriva la domenica Frenco questo qua non mi devi anche prolungare La finisco qua anche perché me ne devo andare Cominci a pensare qualcosa a quello che lei ti ha dato di buono Mi aggrapperò anch'io a questo pensiero tu Non è facile Non è che non ce l'ho Però provaci Non dico che cambiano le cose Perché ormai le cose non cambieranno Però secondo me ti sentirai meglio Cioè avrai un approccio diverso verso proprio la vita Le cose Anche nel raccontarlo Prendete diversamente Poi Frenco Io me lo auguro tutto il cuore Anche se non ti conosco da molto tempo T'ho conosciuto adesso però Secondo me uno bisogna fare così Se no non si fa più amare Poi bello sai credo Quando tu fai così ti ammali tu E appunto Non è un problema Dici vabbè mi faccia così quella No Quello E tu ti ammali tu Cominciai a vedere i dolori Le cose Ma perché mi sento così Tutta una cosa Tutta una cosa Tu sai chi ne dolore Per questa storia qua Ma tu secondo me sei sanissimo Quindi quando un bacio Sono una persona sana Però secondo me tu ti senti dolore Ti senti tante cose Sotto tutte queste cose Queste tue sofferenze Però che comprendi tu Perché non le affronti Nel modo giusto Io non ti credo che Tu hai torto eh No Però Tu bisogna riflettere Questa cosa qua Quando lei ti dice una cosa Pensa quando ti ha fatto Quale un gesto positivo Che ti è piaciuto Colgirti su quel gesto positivo Che ti ha fatto E cerca di eliminare Questo Questo Prova così Quando ci rivediamo So fra due metri In mezzo Quando ritorno qua Non lo so quando Ti vengo a trovare A tuo locale Ci beviamo un bicchiere di vino E beh Se hai voglia me lo dici Se io non sono un imbatente Mi dice Marietto Sai se ho fatto così Mi sento leggermente diverso Leggermente Che sembra poco Ma è tanto Regista Ma sei bello Quando sei dietro alla macchina Ricca ti posso dire una cosa Sei più bello dietro alla macchina Mi piace di più Lo sa Si fatti Se tu sai Vedi Perché è proprio un regista Capito? Quando lo vedo alla pietra Mi piace di più Ero Mi piace di più Grazie a tutti.